Tutte e tutti cari amici, io mi chiedo, qui nel vostro Sant'Incian che vi parla, come mai così tanto furore in Internet e quasi, come mai così tanto scandalo, se già nella scelta del nome di un Papa sta la scelta di una orientazione? E quindi non vi scordate che se si è fatto chiamare Francesco, questo Papa, è perché San Francesco parlava all'uccello, beh, questo Papa ha parlato dell'uccello. Quindi che c'è di fare tanto gli scandalosi? È solo un cambio di prospettiva. Ha detto cazzo e l'ho chiamato per nome. Dal vivo sto facendo molte cose, aspetta un po', e quindi che c'è di strano, dicevo? Invece di parlare, l'uccello ha parlato dell'uccello, gli è scappato l'uccello in diretta durante una preghiera pubblica. E allora già si vede come questo Papa ha le stesse predilezioni del Francesco di cui ha preso il nome. Già ha liberato delle colombe e un albatros e un corvo se le sono mangiate. Adesso ha menzionato il nome di un uccello. E allora? Vabbè, questo è stato un altro programma del vostro San Ten Chan. Seguitemi in YouTube che caricherò dei video. Qua sono le 10 e 2 del mattino. La devono essere o le 14 o le 15. Ma appunto, mi domando, in questa diretta, live, broadcast, streaming, quello che è, perché scandalizzarsi? Si è fatto quello che faceva San Francesco. Parlare degli uccelli. Tanto casino. Vabbè, ciao.